Si chiude un anno ancora funesto per gli infortuni sul lavoro in Abruzzo. Sebbene i dati al momento si fermino al 30 novembre 2022, si evidenzia un aumento degli incidenti rispetto all'intero 2021. È comunque in crescita nei primi 11 mesi dell'anno del 41%. I dati dell'INAIL Abruzzo nel 2022 confermano una situazione drammatica rispetto al tema sicurezza sul lavoro. Sebbene i numeri siano ancora parziali, sono già peggiori rispetto a quelli dell'anno precedente. Crescono gli infortuni e crescono nonostante le tante iniziative volte a sensibilizzare sul tema, che sono state portate avante denunce, manifestazioni, incontri, seminari. Tutto ciò non basta, non basta ed è necessario che si intervenga. Pretendiamo che vi siano maggiori e più strutturati i controlli affinché vengano rispettate le normative che ci sono, così come pretendiamo che le aziende investano in sicurezza, investano in tecnologie innovative che riducano i rischi, investano in macchinari, investano in manutenzione. Un turno di lavoro non si può trasformare in un turno di morte. È arrivato il momento di fare qualcosa. Sicuramente non aiuta la crisi economica, non aiuta la situazione complessivamente difficile che si sta vivendo in questo senso, ma questo non può essere un alibi. Pretendiamo che al pari del profitto vi sia attenzione alla sicurezza. Sono 14.774 gli infortuni registrati dall'Inei nel 2022, 4.293 in più dell'anno precedente. Il primato in questa triste classifica va alla provincia di Chieti con 4.614 denunce, seguita da Terramon con 4.309, Pescara con 3.072 e L'Aquila con 2.777. Il 45% degli eventi ha coinvolto donne, una percentuale più alta di quella del numero delle donne occupate e conferma che troppo spesso l'occupazione femminile, oltre ad essere peggio retribuita, è anche più rischiosa. È necessario che si intervenga perché i lavoratrici e i lavoratori non possono continuare a rischiare la vita sul proprio posto di lavoro, per cui necessari modifiche culturali all'approccio al tema della sicurezza sul lavoro. Il profitto non può venire prima della sicurezza, il profitto non può venire prima della salute di chi lavora. Vogliamo che si intervenga in questo senso.